Cosa ti ha convinto del progetto Teradon e quando è nata questa trattativa? Questo gennaio, siccome lì in Grecia non giocavo tanto, ho avuto una possibilità di venire a giocare qui e di far vedere che la calcia italiana non sono sparita. Dove nasce, a proposito calcisticamente, Gondon? Nel giovanile della Fiorentina, ho fatto sei anni lì, poi sono stato un anno a Ternana e l'anno scorso sono andato in Grecia. Vuoi descrivere come sei sul campo, le tue caratteristiche tecnico-tattiche? Posso dire che sono un attaccante veloce, che attacca gli spazi e questa è la mia caratteristica. Cosa conosci di Teramo e del tuo nuovo gruppo? Come ho detto prima, panico, ho giocato contro e anche contro il Graziano del Torino. Eravamo giovanili alla primavera, ci siamo contatti due o tre volte così, poi per il resto avevo scoperto. Come campionato di Serie Cile per te è nuovo? Sì, è un campionato nuovo, però l'ho seguito parecchio perché ho alcuni compagni che giocano in questo campionato. I obiettivi? Penso che, come tutta la squadra, di vincere il più partito possibile e come obiettivo mio personale di cercare di fare bene e di segnare il più possibile come attaccante. A presto!